E ora torniamo a parlare di arte e lo facciamo con un'artista polietrica, pittrice e pianista. Sto parlando di Carina Aprile. A consegnare il premio Nadia Mazzon, direttore generale di Cultura e Solidarietà. E l'ambiente sociale a Carina Aprile, artista intermediale, che con ogni opera trasmette emozioni e gioie trasversali. Nel frattempo vorrei chiedere alla regia di proiettare il video. Grazie Carina, mentre la platea osserva di fatto questo video. Io voglio solo ricordare che Carina è stata anche l'autrice della nostra. Quest'anno abbiamo avuto una rivista strepitosa, grazie anche alla sua arte e alla sua fantastica collaborazione che ha voluto prestare alla nostra organizzazione. Grazie Io voglio solo ringraziare la giuria, perché questo premio è uno tra i tanti riconoscimenti che ho avuto, questo è quello più importante in assoluto. In quanto va a toccare valori molto profondi, che mi riguardano anche con la mia storia di Argentina, che a modo suo, perché anche se sono più giovani di quelli che hanno sofferto in prima persona, Io ho sofferto in una maniera diversa quello che riguarda appunto la chiusura, la impossibilità di parlare, di dire i sentimenti e di raccontarsi in un momento di dittatura, in un momento di orrori. E con la mia arte l'ho fatto e loro hanno avuto questa capacità di capirlo e di riconoscermelo. Se alzate un pochino il volume si capisce di più questo video arte che rappresenta appunto Alma del Libertango. Grazie Grazie Carina Mentre teniamo questo senso al fondo